Siamo il 2 di agosto, siamo tutti molto stanchi per il caldo, ma manteniamo la visione lucida e penso proprio che non se ne possa parlare. Liquida così il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli l'ipotesi di un nuovo outlet nella zona carbonaia di Arezzo. I commercianti, dice il direttore di Confesacenti che Caglini, vogliono sentire un no secco e deciso ancora prima che inizi qualsiasi iter burocratico o si inizi a valutare ipotesi di varianti. Confesacenti ha tirato fuori il problema proprio perché intende stroncare sul nascere un progetto che mina la sopravvivenza del commercio tradizionale in una città dove le difficoltà per gli operatori commerciali sono tante e quotidiane. Non serve una nuova area di 25.000 m2 di commerciale. E il no spiccato da Confesacenti sembra essere arrivato considerando le parole di Ghinelli. Un sindaco che si è interessato anche a un altro tema cruciale, quello del possibile raddoppio del raccordo autostradale anche alla luce dell'ultima tragedia in cui ha perso la vita una donna di 55 anni. Tema che si pone da diversi anni, che purtroppo l'ANAS non ha in agenda, non ce l'ha nemmeno nel piano decennale e che faremo nuovamente in modo che ci può, dico nuovamente perché ci sono già stato a Roma a chiedere questo, ma dovremo fare pressione diretta sul ministro il vice ministro delle infrastrutture perché è da lì che vengono le risorse che poi ANAS destina a un'infrastruttura che per Arezzo è importantissima. Credo che siamo uno dei pochi, forse l'unico capoluogo di provincia con 100.000 abitanti che è connesso a un'infrastruttura primaria con una strada a due corsie pericolosissima.